Futuro Quanto ci spaventa questa parola? Ed è una cosa che accomuna chiunque, a prescindere dalla provenienza, dalla religione, dalla cultura. Perché il futuro è imprevedibile, spesso abbiamo la tendenza a pensare e immaginare che in futuro possa accadere qualcosa che ci potrebbe mettere in più o meno seria difficoltà. Quindi in alcuni di noi si innesca un meccanismo che ci porta ad evitare la situazione o a rimanere fermi. Ma quando ci viene posta la domanda, chi vuoi diventare in futuro? Possiamo evitare di rispondere, ma non di pensarci. Pensare a chi davvero vogliamo essere. E in questo l'istruzione gioca un ruolo fondamentale, visto che dovrebbe aiutarci a diventare chi vogliamo essere davvero. Ma nell'era del digitale, dei social, degli influencer, del metaverso e dello smartworking, perché iscriversi all'università? Quale persona più indicata a cui porre questa domanda se non Maria Cristina Messa, ministro dell'università e della ricerca? E quale migliore location se non la sede del ministero dell'università e della ricerca? Andiamo. Quante volte mi ricapita di scroccare un passaggio al founder Scuola.net? Quindi, grazie al supporto incredibile di Scuola.net, sono riuscito ad intrufolarmi nella pazzesca sede del ministero dell'università e della ricerca, insieme a Daniele Grassucci, il co-founder di Scuola.net. Al nostro arrivo ci hanno accolto diverse persone, tutto per arrivare dalla ministra Maria Cristina Messa, con le domande che mi avete mandato su Instagram qualche settimana fa. Che bello rivederla! Eccolo qua, come sta? Tutto bene, tutto bene. Lei? Io bene, grazie. Le faccio direttamente la domanda più importante. Ecco, perché iscriversi all'università nel 2022? Innanzitutto perché dimostrano i dati è più facile trovare lavoro ed essere pagati anche di più. Ma poi è anche per una cultura personale, cioè bisogna approfondire le proprie conoscenze ed essere fieri di se stessi. Crede che un giorno, non troppo lontano, il passaggio dalla scuola superiore all'università sarà meno drastico? Cioè, visto che si viene accompagnati fino al quinto anno e poi si viene lasciati soli, diversamente dagli altri paesi. Negli altri paesi in realtà vieni lasciato solo prima. Ci vuole più autonomia nella scuola, i ragazzi devono crescere nella scuola. Riteniamo troppo sotto una campana di vetro. Quindi io asco che ci sia un percorso di indipendenza e autonomia già a partire dalle superiori. Servono più borse di studio che possono coprire anche vitto e alloggio. Come pensate di muovervi su questo terreno? Abbiamo per ora impiegato i fondi del PNRR per aumentare il numero di alloggi e per aumentare il numero e l'attività delle borse di studio. Tutto questo sarà valido fino al 2024-2025, quindi è molto importante che i prossimi governi stanzino finanziamenti nazionali per continuare questo percorso. Sono in programma iniziative, attività o progetti al fine di invogliare e incitare gli studenti a rimanere in Italia e non cercare lavoro all'estero? Dobbiamo rivedere i salari. Sicuramente i nostri salari sono troppo bassi rispetto al resto dell'Europa e soprattutto lo sono per chi ha una laurea. La laurea va valorizzata perché comunque è un impegno che è stato fatto. Questo è un paese in cui ancora si vive bene, quindi c'è una buona qualità di vita. Quindi io credo che riconoscere il valore della laurea, aumentare l'occupazione che dipende dalle competenze e dalle conoscenze e riconoscerla anche dal punto di vista salariale sia il modo migliore per tenere i nostri giovani qua. Questa è una domanda che ovviamente riporto dalla community ma è anche una domanda che io personalmente le porgo a lei. Perché medicina è un numero programmato se mancano i medici in Italia? Quest'anno si sono iscritti a medicina più di 60.000 persone. Noi non abbiamo le forze per riuscire a formare 60.000 medici. Allora o li fermi all'inizio come succedeva ai miei tempi nel primo anno oppure li fermi prima ancora che comincino. Però credo anche che l'abbiamo fatto, il numero dei medici, delle immatricolazioni è aumentato. Oggi siamo arrivati a quasi 15-16.000 posti di medicina. Quindi rispetto ai 9.000 di un po' di anni fa abbiamo aumentato. Giusto un pelino di differenza. Adesso domanda finale che secondo me è un pochino la più importante e quella che mi ha spinto a scrivere questo video. Ossia che consigli ha da dare a tutti quelli che non riescono a capire chi vogliono diventare? Tre. Tre consigli. Il primo è non andate in crisi, niente ansia, mente fredda, lasciate perdere un attimo il cuore e pensate senza metterci troppe emozioni. Il secondo è girare, vedere, parlare con quelli più grandi, parlare con chi ha già intrapreso gli studi. Se sei interessato ad alcuni argomenti andare a visitare facendoti aiutare dalla scuola e io spero che miglioreremo l'orientamento. Andare proprio nei luoghi dove ti piacerebbe lavorare e nelle cose che vorresti fare. E il terzo è di conoscere se stessi. Quindi riuscire a fare un lavoro su se stessi per capire proprio non solo il desiderio astratto, ma anche, ritorno alla frase che ho detto prima, la voglia di... per qualsiasi cosa io credo che la motivazione sia il motore più importante per riuscire in qualsiasi tipo di studio. Grazie mille. Grazie mille. Il calo degli iscritti all'università è strettamente correlato alla decrescita economica e al fenomeno dei NIT, quei ragazzi che non studiano e non lavorano, non solo per pigrizia, ma perché non sanno chi vogliono diventare. Essere. E questo perché c'è un gravissimo problema di orientamento. Molti ragazzi non sanno neanche le infinite possibilità che hanno davanti a loro. E questo li demoralizza. Quindi, come si risolve questo problema? Se stai ancora cercando il tuo posto nel mondo, ricordati che anche se vedi tutto nero, è solo un periodo. E lì fuori c'è l'occasione che aspetta solo te. Devi solo trovarla, e se non la trovi cerca ancora. Ad ogni bivio, ad ogni incertezza, ad ogni dubbio morale o etico, a ogni scelta, chiediti sempre una cosa. Chi voglio diventare? Ho rubato delle bambiare per fare questo video, quindi mettete like e iscrivetevi al canale. E sono autorizzato? Non lo so. Proviamo. Non lo so. Grazie a tutti.